In questi giorni si fa un gran parlare di varie criticità insite all'interno del centrodestra che governa la regione molise. È evidente che si sta procedendo verso il rinnovo del Consiglio e si è a pochi mesi dalle nuove elezioni regionali, fatti che spingono i vari personaggi politici ad assumere atteggiamenti di critica dell'uno verso l'altro, in qualche modo autoassolvendo ognuno il suo percorso politico. Oggi l'assessore Quintino Pallante respinge ci sia una chiave di lettura al contrasto forte, al contrario la sua opinione è che siamo di fronte alla normale dialettica di una coalizione. Stiamo andando molto avanti, ci sarà nei prossimi giorni altre riunioni che consentiranno da una parte l'approvazione dell'esercizio provvisorio e dall'altra il consuntivo, così come è accaduto tutti gli altri anni. Io credo che quello che sta accadendo in maggioranza sia percepito da parte di tutti quanti come una dialettica interna costruttiva. Allo stato attuale io credo che questa maggioranza, anche alla luce dei risultati che ha ottenuto qualche mese fa, possa trovare non solo l'intenzione di stare insieme ma anche l'interesse dei molisani di perpetuare con un'azione politica di centrodestra, quindi io non vedo grosse difficoltà.